Dove andiamo a cena? Marinelli, popolo delle libertà? No, 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 lì si mangia malissimo. Spacca, partito democratico. Che palle, sempre i soliti. E vabbè, vada per sto partito democratico. No, finalmente ti sei decisa. Signori, buonasera. Buonasera. Allora, io per cominciare consiglierei una centrale nucleare nella sentina. A seguire le consiglierei ancora una bella privatizzazione dell'acqua alla cartaglione. E poi il nostro piatto focato. Quadriga per spa alla nanti giama. Il tutto con un contorno di ludici in salsa ceccanti. Per quanto riguarda il video, non vi preoccupateci, penso io. Affidatevi completamente a me. Ma lo stesso meno del popolo delle libertà? Ludici in salsa ceccanti. Ti, non la digerisco. Eccoci qua. Allora, signore. Per lei, io consiglierei una perazzoni annata 1951. E' per lei, signora? Una colonnella del 1956. Ma è schifo, c'è da genere. Serviamo la stessa roba da oltre vent'anni, signori. Andiamo. Ho fame. Senti, hanno aperto un nuovo ristorante. Ne parlano bene. Il nome? Sinistra, ecologia e libertà. Proviamo. Salve. Ecco il nostro merito. Grazie. Grazie. Scuola pubblica. Reddito sociale per i giovani. Energie rinnovabili. Acqua pubblica a volontà. Tutto buonissimo. Per oggi, costamente digeribile, è tutto condito con onestà e buona politica. E per il vino? Oh, per il vino abbiamo un ottimo vino Giovanni Strizzanti. È un Giorgio Mancini del 79. Alle regionali, scegli sinistra ecologia e libertà. Vota Giorgio Mancini, a sinistra, per il cambiamento. Basta con i soliti, è ora di cambiare vino. Basta con i soliti, è ora di cambiare vino. Non è così, è ora di cambiare vino. Va giocare l'innovare vino. Inizio mancini, è ora di cambiare vino. Vota Giorgio Mancini. È un Giorgio Mancini, a sinistra, per i giovani non è un amore. Grazie.